San Michele Arcangelo, come ha detto l'Arcivesco, ha la spada per difendere la parola di Dio. Noi abbiamo la legge che dobbiamo difendere ogni giorno. Questo è quello che ci lega a San Michele Arcangelo. Prime giornate a Benevento, tanti contatti istituzionali, saluti, insomma quello di routine che fa il vertice della Polizia di Stato un'istituzione. Sì, più che routine io la vedo come l'avvio di rapporti proficui, perché la Polizia di Stato da sola potrebbe fare poco. insieme a tutti gli enti istituzioni preposti fa molto di più.